Ciao a tutti. È un piacere darvi il benvenuto nuovamente sul canale Juventus oggi. Non dimenticatevi di iscrivervi e lasciare il vostro like per rimanere aggiornati sulle prossime novità del miglior club del mondo. Grazie per la vostra presenza. L'anno scorso è stato implacabile per i bianconeri. Il primo colpo devastante è stata la penalizzazione dei punti, seguita dall'esclusione dalla Conference League da parte dell'UEFA. Ora sembra che tutto sia nel passato, con il club concentrato fermamente nel raggiungere i propri obiettivi, vincere il maggior numero possibile di partite e garantirsi un posto in Champions League. Evelina Cristillin ha fatto alcune dichiarazioni sulla situazione della Juventus dopo la sua esclusione dalla Conference League. Cristillin ha sottolineato un'era di riconciliazione tra la Juventus e l'UEFA. La pace è tornata tra la Juve e l'UEFA? Certamente, ha affermato Cristillin. Poi ha aggiunto, i rapporti sono ottimi. Il presidente Gianluca Ferrero è stato a Nione e ha ricevuto grande stima dall'UEFA, quindi tutto è risolto, ha chiarito Cristillin. Mi piacerebbe sentire la tua prospettiva sulla situazione attuale della Juventus e la sua apparente riconciliazione con l'UEFA. E come vedi il futuro della Juve da qui in avanti?